Questa è la canzone ideale per finire un concerto. Infatti la voce se n'è andata. E' finita la serata e la voce se n'è andata. Forse è l'ultima canzone, raramente viene bene. C'è sull'ultima parola, sento un nodo nella cora. Una notte che finisce e che va. E' avvensoare che a quest'ora c'è gente che lavora. Le guardie in bicicletta e i ladri sull'alzetta. E' suore in ospedale e c'è chi fa l'amore. Magari per vestire più chi sa e invece noi. A cantare canzoni Che per quanto sia un mestiere duro Non è mai un lavoro fuori di qui. Torneremo al mondo C'è la gente della sera Alla faccia forestiera E un dono disegnato dentro agli occhi C'è chi dorme nella sozione Chi si bacia in un portone Che è un ragazzo Che è un ragazzo Come amica Nesta notte In un portone Che è un ragazzo Che è un ragazzo alle cassiere e ai corizziotti, a chi si è divertito il voto e anche ai vigili del fuoco, a chi tra poco sarà il vento, a chi dovrà smontare tutto, buonanotte a chi ha cantato con noi e tutti a casa, sotto le coperte. Qualche canzone ci è rimasta chiusa e dormiamo fuori, lasciamo qui, gli ultimi pensieri, buonanotte ai sognatori, agli amori nati ieri, buonanotte a chi farà una buonanotte, anche ai lupi sono usati, a chi scrive contro i buoni e alla fine buonanotte ai sognatori. Come vivono le case.